salve d'agropalati stasera almeno due salsicce devo comprare quest'anno io le salsicce per dire la verità non l'ho prodotto i salumi quest'anno perché il tempo mi ha scoraggiato fa caldo come se fosse estate quindi sia capocollo pancetta via dicendo sinceramente poi mai dire mai fra qualche giorno per una settimana ma sicuramente per quando è arrivata capocollo prosciutto e via di cento salta quest'anno perché non mi dice nulla di buono forse se il tempo andrà nella direzione giusta perché adesso in questa stanza sono 23 gradi quindi anche se la il fuoco acceso non può dire nulla che salumi vengono bene se per fa veramente freddo sono diventano ossidati già praticamente ancora metà stagionatura quest'anno c'è qualcosa di strano speriamo tutto bene questo l'ho comprata chiaramente sono salsicce fresche di buona qualità arrostite sulla braccia e qua diciamo che abbiamo fatto le frese e anche con le melanzane sottori a filetti sono anche molto buoni da combinare insieme un bicchiere di vino stasera al fuoco lato grazie all'attenzione da michel grazie a tutti grazie a tutti